Una nuova realtà imprenditoriale, commerciale, soprattutto culinaria, Filippo Pizza e Pollo via Oberdan 16 a Taranto. Vedete, questo è il momento dell'inaugurazione e Filippo così pronto a far degustare le sue specialità, un marchio che si diffonde al centro di Taranto. Grazie, grazie. Salve a tutti. Allora, questo è un nuovo progetto Filippo Pizza e Pollo che viene dal brand Filippo Pizza e Cozze. Quindi adesso riportati in città faremo questo takeaway con i prodotti, puntiamo soprattutto sul pollo e sulla pizza di qualità con una lievitazione 48 ore mozzarella della masseria Modio come lì a San Vito. Questo ad esempio è un pollo, sia la coscia che la letta, fritta, fatto un'impanatura con conflix, pane grattugiato e viene fritta. Quindi tutti i prodotti fatti da noi, prodotti da noi, sempre il massimo della qualità. Il marchio di Filippo ha la base della sua attività prodotti genuini e caserecci. Sì, 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 questo è fondamentale per noi. La qualità è, diciamo, il primo passo verso un potenziale successo. Poi, ovviamente, quello che manca e la cosa più importante è la clientela. Per fortuna adesso siamo, insomma, in compagnia di ottimi amici e quindi vi aspettiamo anche su questa sede di Via Oberdan numero 16. Filippo, anche un modo per rivitalizzare il nostro borgo. Questa è una perla all'interno del centro di Taranto. Sì, questo è un argomento che ho preso molto importante per me perché credo che ad oggi chi, qualsiasi persona, faccia impresa in una città come Taranto che è sovrastata da tante critiche che vengono dalla grande industria, questo è un periodo che è molto pesante per tante persone a priorità. Secondo me dobbiamo proprio abbattere queste pareti e appunto creare queste nuove iniziative al di là delle critiche che riceviamo a livello nazionale. Allora, Filippo, in bocca al lupo e buon appetito a tutti. Grazie, grazie a tutti, vi aspetto. Grazie.